L'associazione Onconauti si occupa di riabilitazione integrata dei pazienti oncologici e dei loro familiari e di reinserimento lavorativo dei pazienti oncologici e delle persone con malattie croniche. In questo momento, proprio adesso, un gruppo di nostri esperti, assieme ad un gruppo di donne operate al seno, che noi chiamiamo metadinamiche, stanno facendo una cosa meravigliosa. Si svegliano alla mattina, sono una mattina di persone, fanno meditazione, fanno yoga davanti al mare e poi camminano tutta la mattinata insieme. Ed è una metafora del viaggio verso la salute, verso la prevenzione, che tutti noi dovremmo prendere in considerazione. Poi si ritrovano a mezzogiorno, mangiano le cose buone che nel Salento non mancano e ovviamente alla sera c'è lo stare assieme, la convivialità. E credo che questo sia un messaggio che vada molto mirato a quello che i giovani oggi dovrebbero fare. Non c'è, è bellissimo divertirsi e la gioventù è questo, ma credo che come CEO for Life ci testimonia bisogna avere uno sguardo nel futuro. Il futuro è il futuro del lavoro, il futuro è fare qualcosa per migliorare la nostra società, per avere una buona vita, ma perché questo futuro si concretizzi bisogna vivere bene, bisogna rispettare il nostro corpo, bisogna vivere il fatto che la prevenzione, la salute è anche un dovere, non è solo un diritto. E quindi l'associazione Onconauti è una valida testimonianza assieme al CEO for Life. Di questo grande messaggio di salute dedichiamo un'ora alla settimana a stare bene, che sia fare sport, che sia fare yoga, che sia stare con gli amici, che sia fare altre cose che ci piacciono e che migliorano la salute e camminiamo. Camminiamo tutti i giorni perché se non camminiamo non arriviamo da nessuna parte e peggioriamo sicuramente la nostra salute. Grazie a tutti.